Grazie a tutti Il video Cliccheremo su Watch Dogs 2 Più HD Texture Ci troveremo con questa schermata Andremo su Watch Dogs 2 Più HD Texture Faremo scarica Salva file E lo salveremo sul desktop Una volta scaricato il file Andremo sul file scaricato Ci faremo doppio clic Faremo doppio clic E ci troveremo con questa schermata Noi deselezioneremo tutte le lingue Trano l'italiano E poi se vorremmo l'HD Texture L'Ultra HD Texture Lasceremo questa qua E poi HD Texture Lasceremo qua Che peserà più o meno 4 GB E lasceremo tutto il resto così E vi consiglio di togliere queste qua Perché questo qua non serve al need 77 MB per niente E lasciate se volete L'option Bonus Continent E ci partirà il download In questo caso l'ho già scaricato Ci staremo con questi file Faremo partire il download Tramite Setup Multi 17 Esegui come amministratore Ok English Teglieremo l'audio Faremo next Next Selezioneremo dove installare il gioco Faremo next Come potete ben vedere L'unica lingua selezionata è l'italiano Deselezioneremo questi due Perché se ce l'avete già Non servirà installarlo E come potete ben vedere Se io non avrò scaricato l'HD Texture Non me lo farò selezionare Bit Perfect Lasciate stare Non è essenziale Ad esempio invece Install Bonus Continent Ad esempio Wallpaper Artworks OST Ad esempio Le DLC Partiremo con l'installazione Ci farà installare tutto il gioco Un'altra installata il gioco Ci farà partire il controllo del file Se sarà tutto ok E ci farà installare appunto La DirectX E anche Il Visual C++ Se l'avete appunto Selezionato Un'altra finita Vi farà Vi lascerà una schermata Sul desktop Che sarà appunto Questa qua E appunto Faremo clicco destro Esegui come amministratore E ci partirà il gioco Tutto qua Perfetto Ok Andremo su ad esempio Settings Per mettere la lingua italiana Audio e language Andremo su Italian Così E faremo Torneremo indietro Con Return E ci partirà appunto Il gioco non servirà neanche Riavviarsi E partirà subito in italiano Come potete ben vedere Premo continua Ad esempio Perché io ho già avviato Una partita Su una live Che ho fatto poco tempo fa E come potete ben vedere Il gioco Si caricherà E però Devo effettivamente Ammettere che La grafica è fantastica E fatta veramente Molto molto bene Il gioco Non lagga Neanche più di tanto Almeno Proprio per una scheda video Dei 2 GB Come ho io E qua ragazzi Appunto Il gioco si è caricato Come potete ben vedere Il gioco funziona Veramente molto bene Non lagga Ed è veramente Una grafica Pazzesca Almeno Secondo me Ed è anche già Molto bassa Benissimo ragazzi Spero vi sia piaciuto Spero vi sia stato Tutto Le mie leccano Delle iscrizioni Per supportarmi Lasciate un like Questo per consigli Domande o d'altro Lasciate un commento Lasciate un commento Questo per consigli Domande o d'altro Lasciate un like Per supportarmi Seguitemi sulla mia pagina Instagram Seguitemi sulla Mettete like Anche la pagina di Facebook E niente ragazzi Spero vi vi sia piaciuto Spero vi sia stato Tutto le mie leccano Delle iscrizioni Per supportarmi Noi ci vediamo Al prossimo video E ciao Ben Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti